Panico a Scafati, si torna a sparare di giorno ed in pieno centro. Il fatto di cronaca questa mattina dopo le 11 davanti a un bar della frazione San Pietro. Sembra dalle prime indagini che i gnoti hanno fatto esplodere alcuni colpi di pistola contro un residente che sarebbe già noto alle forze dell'ordine. L'uomo è stato condotto all'ospedale di Nocere Inferiore in codice giallo. Sul posto sono prontamente intervenuti i carabinieri della locale tenenza che agli ordini del maresciallo Gennaro Vitolo hanno avviato le indagini del caso per fare chiarezza su quanto accaduto nella tarda mattinata nella frazione San Pietro.